Sono in continuo aumento le forme di cancro cutaneo. Il dato è stato diffuso dalla Società Italiana di Dermatologia nel corso di una conferenza stampa con l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi. Non stiamo parlando dei melanomi, ma di altri tumori della pelle che rappresentano il 95% delle neoplasie cutanee e contano più di 11.000 casi all'anno in Toscana. Nei prossimi decenni è atteso un aumento del 20%. Se si parla di una incidenza per questi tumori non melanoma di 100 volte superiore a quella del melanoma. Quindi per capirsi, il melanoma è quello che attira più l'attenzione perché ovviamente nel melanoma si muore, c'è uno sforzo di prevenzione notevolissimo, però i non melanoma sono tanti di più. È destinata a questo tipo di patologia a avere un impatto dal punto di vista sociale e economico enorme sul sistema sanitario. L'esposizione ai raggi solari è il principale fattore di rischio per queste patologie che non a caso colpiscono più frequentemente le persone che lavorano all'aperto. Un altro fattore è l'invecchiamento della popolazione. Gli ospedali della Toscana dispongono di tecniche di avanguardia per scoprire le neoplasie, monitorarle e intervenire chirurgicamente. Insieme in rete sono in grado di dare la migliore risposta sia sotto il profilo della diagnosi che sotto il profilo della terapia anche chirurgica rispetto a questi tumori che sono in crescita anche per l'aumento dell'età.